Buongiorno e buon risveglio a tutti voi che alle 7 e 20 minuti siete già collegati sul nostro canale 80 e buongiorno anche a coloro che ci stanno seguendo invece da tutte le parti del mondo attraverso la nostra applicazione in questo nostro momento in diretta, un momento che a noi e a voi piace molto e quindi con tanta gioia tutte le mattine dal lunedì al sabato stiamo insieme e quindi non ci interessa del sonno della mattina di svegliarsi troppo presto perché è un piacere davvero stare tutte le mattine con voi oggi è mercoledì 13 dicembre una giornata veramente molto calda sin dalla mattina un po' in tutta Italia le temperature si sono alzate oggi infatti sono percepiti proprio in questi minuti 13 gradi che andranno poi ad aumentare toccando fino ai 17 gradi nelle ore più calde della giornata una presenza di umidità sempre molto alta l'86% e una giornata ancora però molto molto nuvolosa e qui vediamo la webcam che si accende sulla spiaggia di Baia Flaminia questa webcam che è collocata proprio nell'hotel Baia Flaminia ecco che ci fa capire insomma questa foschia del mattino il mare comunque è calmo e quindi qui sono anche una parte di falesia del nostro San Bartolo e saluti anche a tutti coloro che sono sui nostri social e attraverso i nostri social possono commentare e scrivere quello che vogliono insomma non bagniamo nessuno andiamo a vedere le notizie perché oggi sui nostri quotidiani si torna a parlare chiaramente di Federico Marcelli vi abbiamo dato la notizia proprio due giorni fa dell'arresto hanno ritrovato questo uomo che era fuggito in Umbria tra le campagne dell'Umbria ospitato da una donna che lo proteggeva in qualche modo e anche lì aveva iniziato a compiere degli atti diciamo illeciti e illegali come piantare la marijuana insomma un uomo veramente molto molto deviato diciamo così deviato che ha questi atteggiamenti appunto di criminalità insomma quando è stato scovato sul fatto ha detto ai carabinieri come avete fatto a trovarmi insomma grazie all'utilizzo di un drone lui è stato scoperto proprio qui l'arresto di Federico Marcelli ripreso dall'alto dai carabinieri a destra lui a sinistra il suo SUV che la madre aveva comprato pochi giorni prima e lui appena arrivato a questo SUV è preso e scappato ancora non riusciamo a sapere come abbia fatto a togliersi il braccialetto elettronico e poi balzo covid ospedale in affanno al pronto soccorso si viaggia a una media di sei ricoveri al giorno a torrette raggiunta la saturazione un altro mistero che aveva coinvolto il nostro territorio un po' di tempo fa era quello della scomparsa di Maurizio Cesaroni bene adesso sono state scoperte delle ossa è stato ritrovato un teschio delle ossa e probabilmente sono riconducibili a Cesaroni questo fanese che era sparito dal giugno scorso incassato un milione truffa con le slot con Danilo Madonna altri nuovi indagati sono stati scoperti in questo giro di contraffazione delle slot machine in piazza d'annunzio litigano tra coinquilini parte coltellata e c'è un ferito vediamo anche le notizie del Corriere Adriatico che in apertura invece parla delle scuole e di questo piano sicurezza soprattutto quella sicurezza per tutti quei ragazzi e quei bambini che escono dalla scuola e quindi devono essere tutelati proprio nelle vie che ci sono dintorno a queste scuole comune e quartiere di Villa San Martino e Torraccia questo patto un progetto pilota che potrà essere anche ampliato i genitori dei bambini chiedono interventi anche per la scuola di via fermi risultato anche questa in una collocata diciamo in una posizione di strade un po' pericolose e poi vedete anche qui la fotonotizia del Corriere Adriatico il drone che ha incastrato Marcelli l'evaso nei guai anche per spaccio di droga le altre notizie che vedremo poi nel Corriere Adriatico ci parlano della risposta che dà Enzo Belloni al consigliere Daniele Malandrino in merito alle perplessità sui possibili problemi di viabilità con l'apertura domani del nuovo supermercato e poi a Pesaro volontari la grande festa nella chiesa di San Giovanni anche ieri abbiamo visto delle informazioni su questo evento grande di solidarietà e poi le marche andremo a vedere il lavoro che si cerca nelle marche sono tante le richieste c'è lavoro per 140.000 persone ma metà dei profili sono introvabili e quindi questo è un problema veramente molto molto importante e grande buongiorno a tutti voi che ci state scrivendo intanto ecco qui la fuga è finita pensava di salvarsi pensava magari di averla scampata ma per fortuna la tecnologia oggi è dalla parte anche delle forze dell'ordine con questo drone particolare hanno individuato Federico Marcelli il suo fuoristrada acquistato dalla madre giorni prima della fuga una tenda nel bosco come nascondiglio bis lo stupratore e la tana il casolare tra i monti una donna lo ospitava lui nel frattempo coltivava marijuana aveva in tasca 1800 euro e una buona prospettiva di guadagni facili fino a quando domenica pomeriggio appunto i carabinieri lo hanno incastrato per questo lui insomma è condannato a 10 anni e 4 mesi è evaso come sapete dagli arresti domiciliari ma quando lui ha visto i carabinieri la prima domanda che ha detto ma come avete fatto a trovarvi? chi vi ha detto che ero qui? era arrivato nelle campagne perugine un mese fa sistemandosi in una casa di campagna dove viveva una ragazza che gli ha dato ospitalità insomma una volta fermato all'uomo sono stati notificati il decreto di latitanza e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere successivamente è stato poi trasferito nel carcere di Perugia oggi ci sarà l'udienza di convalida l'uomo era già stato condannato nel 2016 alla reclusione di 4 mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente insomma era un uomo assolutamente pericoloso insomma che era avezzo a delinquere e poi andiamo ad altri fatti di cronaca perché c'è il racconto di una litte furiosa tra coinquilini insomma succede anche questo parte una coltellata siamo nella zona mare un giovane correva in strada nudo con un'evidente emorragia sotto la scella e diceva non riesco a respirare è stato portato in caserma quello che divideva la casa con lui allora andiamo a vedere che cosa è successo un furioso litigio ieri sera tra due coinquilini provenienti dalla Somalia ed Etiopia con la casa nella zona di Piazzale d'Annunzio zona casco di Valentino improvvisamente dei testimoni hanno visto un giovane africano correre in strada a torso nudo con un'evidente perdita di sangue sotto una scella urlava che non riusciva a respirare sono stati chiamati 118 i carabinieri difficile capire chi o cosa abbia fatto scattare questa reazione dell'Etiope nei confronti del Somalo di un'apparente età di 40 anni probabilmente si trattava di una questione di convivenza del tipo chi doveva pulire la stanza o il bagno insomma poi è passata questo futile motivo a una grande azione perché uno dei due è stato appunto accoltellato e quindi l'aggressione l'aggressore Etiope è stato portato in caserma per l'identificazione e per notificare gli provvedimenti che potrebbero scaturire se il magistrato ravvisasse gli estremi del tentato omicidio Ornella grazie a tutte le forze dell'ordine che l'hanno arrestato infatti sì ringraziamo sempre Ornella le forze dell'ordine che fanno un grosso lavoro nel territorio nazionale quindi ecco questo uomo pericoloso è stato arrestato e adesso la giustizia farà il suo corso sarà arrestato passerà i suoi anni in carcere così come doveva fare anche precedentemente intanto si parla anche di giochi pericolosi lui ormai è noto alle cronache e anche nelle tv nazionali perché stiamo parlando appunto di mister slot e di questi facili guadagni Madonna vinceva facile la fidanzata lo aiutava e qui vedete anche un fotogramma della trasmissione delle Iene che aveva dedicato una puntata proprio a Danilo Madonna e lui che parla con i carabinieri i militari della Guardia di Finanza chiusa l'indagine a carico dell'uomo che riusciva a sapere in anticipo quando le macchinette pagavano tutti i nomi chiaramente degli indagati non era solo un lavoro che ha compiuto in autonomia ma c'era un team una squadra di persone che lo aiutava e allora secondo l'indagine della Guardia di Finanza il patron delle vincite col trucco avrebbe incassato da solo 740 mila euro circa l'altro complice Bini 280 Saplacan 67 Garavaglia 2000 euro insomma qui ci sono tutti coloro che insomma in questa operazione incassavano dei soldi sequestrati tutti i computer e i telefonini in uso al gruppo questo ha permesso chiaramente di ricostruire la rete di complicità su cui poteva contare questo gruppo criminale Le altre notizie dalla città siamo a Villa Fastigi ieri una giornata un po' difficile per quanto riguarda la viabilità che cosa è successo? C'è stata una grande rabbia degli automobilisti e anche dei negozi per la coincidenza fatale fra i due nuovi restringimenti e lavori in corso sulla Monte Labattese tanti disagi e quindi stiamo parlando di ieri mattina nella zona di Villa Fastigi e Villa Ceccolini in cui chiaramente molti cittadini dalle 7 sono restati pensate bloccati nel traffico alcune ore prima di riuscire ad arrivare a destinazione da dove nasce l'idea di questa modifica sulla strada l'installazione dei due restringimenti stradali è una sperimentazione partita da pochi giorni per rispondere a diverse lamentere da parte dei cittadini del paese che hanno evidenziato la pericolosità di quel tratto e quindi adesso insomma vedremo che cosa si riuscirà a fare per sistemare questo problema dopo la denuncia del consigliere Emanuele Gambini c'è anche la risposta per quanto riguarda il ponte di case bruciate che è vecchio arrugginito il comune però al momento non ha i soldi per ristrutturarlo e queste sono le risposte appunto di Riccardo Pozzi se arrivano al governo dal governo alcuni fondi noi chiaramente provvederemo a ristrutturarlo ma al momento insomma non c'è possibilità di metterlo diciamo ecco di restaurarlo e ristrutturarlo e renderlo quindi più agibile intanto continuano i festeggiamenti natalizi c'è un evento che tutti gli anni porta all'hotel Flamminio tantissime persone l'anno scorso ho avuto anche il piacere di presentarlo stiamo parlando della cena dello Iopra una cena benefica appunto per questa associazione che fa tantissimo per i malati quindi nel nostro territorio cena e spettacolo aiutano chi aiuta una serata in ricordo di Meuccia Severi quindi venerdì prossimo all'hotel Baia Flamminia ci sarà anche la bellissima voce di Clarissa Vichi e poi ci sarà Sabrina Licari con Tanghera una ballerina bravissima Thomas Nobili condurrà questo questo evento e quindi insomma l'invito è di partecipare e contattare il numero 0721 322 30 lo ripeto 0721 322 30 se volete partecipare anche voi a questa cena di raccolta fondi all'hotel Flamminio venerdì organizzata dallo Iopera e dai Lions Club di Gabice e poi vi ricordiamo anche che a Palazzo Gradari continua l'artigianato la musica e il buon cibo questo però attenzione l'ultimo weekend della bottega è un contenitore dove ci sono forme artistiche dagli artigiani alla musica e quindi potete trovare venerdì 15 sabato 16 domenica 17 dalle 10 alle 21 tante iniziative ed espositori per magari andare anche a fare i vostri regali natalizi e poi verso le feste non mancano le polemiche le osservazioni in questo caso nella pagina 11 trovate un'intervista a Davide Ipaso della Confessercenti viviamo il riflesso del Natale altrui Ipaso dice non abbiamo attrazioni allora lui cosa dice praticamente che le persone che arrivano a Pesaro sono quelle che in primis vanno ad esempio a Candela Candelara ai mercatini di Montbaroccio oppure vanno a vedere Gradara e quindi lui dice tutte queste persone non vengono dirette a Pesaro ma vengono in altre destinazioni poi siccome Pesaro è vicina vengono a visitarla quindi lui dice mancano le attrazioni veramente forti per attirare i turisti voi cosa ne pensate fateci sapere insomma come sempre vi leggiamo e leggiamo i vostri commenti folle enormi e quindi vediamo qui che c'è anche un riscontro diciamo oggettivo per quanto riguarda invece la grande partecipazione nella provincia con il Natale che non ti aspetti il coordinatore Damiano Bartocetti che diciamo tiene le fila di tutte le proloco delle provinciali che si prodicano ogni anno ad organizzare degli eventi che attirano tantissime persone introterra 60.000 presenze nell'ultimo ponte e quindi veramente grande successo per Mercatini Bartocetti record di visite per gli ultimi due anni appunto per questo evento che per questi eventi che piacciono moltissimo ed ora torniamo alla cronaca andiamo nella pagina di Fanno qui vedete l'immagine che poi è estratta da un fotogramma della trasmissione chi l'ha visto e lui è Cesaroni spunta un corpo nel bosco è il pizzaiolo scomparso che cercava che tutta Italia cercava manca solo l'esame del DNA ma sembra essere quello di Maurizio Cesaroni il cadavere trovato da un cacciatore a Castaccolo era finito su chi l'ha visto quindi tutto lascia intendere diciamo che siamo che queste ossa siano di questo pizzaiolo scomparso lo scorso 25 giugno ossa umane ritrovata lunedì pomeriggio in primis perché sono perché sono di Maurizio Cesaroni documenti che sono stati trovati all'interno di un portafogli che giaceva poco lontano da quei resti umani e poi anche perché quel luogo boschivo impervio isolato è in linea d'aria vicinissimo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia dal quale Maurizio Cesaroni si è allontanato a giugno a piedi facendo poi perdere per sempre le sue tracce insomma l'uomo era caduto in disgrazia a giugno fuggì dall'ospedale una situazione veramente molto molto triste di grande sofferenza non solo fisica ma anche mentale in questo povero uomo e poi cambiamo argomento andiamo a parlare di per il centro il centro diciamo il project financing e i tifosi dell'alma sono perplessi la bocciatura della lega si parla dell'impianto in sintetico all'ex campo dei militari da destinare all'uso dell'Accademia Granata secondo l'ipotesi il comune si impegnerebbe per 500 mila euro lasciando però al privato la gestione per 20 anni è un'operazione che prevede un orizzonte ventennale mentre le esigenze calcistiche contingenti sono ben diverse quindi una situazione un po' in polemica che è stata sollevata da Alessandro Brandoni che è segretario della Lega di Fano e poi sempre a Fano il teatro romano sei migliori per rinascere Fano si aggiudica questo maxi finanziamento ministeriale ci faremo il nuovo museo di Vitruvio e la riqualificazione dell'ex Filanda Bosone chiederemo al Ghetti tutti i dati per una riproduzione autentica dell'Isippo dice appunto il sindaco Massimo Seri e poi la storia dipinta vediamo qui quest'opera di questo artista che potete trovare a San Costanzo il nuovo murale di Agrà realizzato nella facciata di 30 metri di una casa nelle campagne di San Costanzo vedete che raffigura la fuga dei cartaginesi questa opera appunto di questo signore che è un artista e che ha decorato questo bellissimo casolare e poi la cronaca siamo a Fano sequestrata da mio marito lei fugge ma lui nega tutto la donna ha raccontato e qui siamo un altro caso di violenza sulle donne purtroppo tutti i giorni leggiamo dei casi degli eventi dai più piccoli ai più grandi che parlano di questo argomento la donna ha raccontato anni di maltrattamenti e violenze subite anche dai parenti del suo ex e quindi questo uomo è accusato di sequestro di persona maltrattamenti fisici e verbali e l'uomo un 32enne nato a Fano è stato portato in giudizio dall'ex moglie una 26enne di origine macedone con il quale aveva avuto una figlia di 9 anni e la donna dice di essere stata segregata in casa dopo la nascita della figlia nel 2013 senza possibilità alcuna di uscire e avere contatti con persone diverse dal nucleo familiare pensate insomma le tragedie che sono anche vicino a casa nostra nel 2020 la donna decide di tornare in Macedonia mentre ora risulta essere residente a Merano in provincia di Bolzano senza la figlia per via della presunta condotta violenta dell'uomo e della famiglia fino a poi non sentirla più e accusando l'uomo stesso di occultare i regali e le lettere che la donna inviava alla bambina per mostrarne vicinanza seppur da lontano la figlia attualmente in affidamento esclusivo con il padre la querela della Macedonia arriva dopo la richiesta di separazione ottenuta dal marito e dopo una denuncia insomma poveri bambini veramente che devono subire queste situazioni di grandi violenze familiari e questo lo vediamo praticamente tutti i giorni cambiamo argomento e andiamo a Urbino all'oggi per gli studenti si torna a parlare di questa problematica sapete anche a livello nazionale anche i ragazzi gli studenti di Milano hanno protestato accampandosi con le tende dicendo e rivendicando che gli affitti nelle città grandi sono assolutamente costosissimi per degli studenti che sono fuori sede e che chiaramente hanno già tanti costi da affrontare e degli affitti carissimi in questo caso parliamo della stessa cosa però riportiamo tutto sulla città di Urbino alloggi per gli studenti sono innanzitutto rari non si trovano e quindi quando c'è grande richiesta i prezzi aumentano sono troppo costosi un'indagine della Will fa emergere infatti la condizione abitativa che insomma è quella in cui devono vivere gli universitari pagando moltissimo oppure stando in tantissimi in un appartamento oppure di frequentare appunto le lezioni solo uno su quattro utilizza i mezzi pubblici nella città ducale per raggiungere le aule i bus non sono utilizzati e poi qui ci sono altre cose molto interessanti che vi consiglio di leggere insomma in questa indagine la maggior parte si accontenta ma le soluzioni sono descritte come piccole costose con spazi inadeguati spesso lontani quindi si devono organizzare quegli spostamenti quindi insomma appartamenti vecchi piccoli e molto molto costosi allora leggo Luca Pandolfi ecco qui buongiorno buongiorno Emi grazie grande applauso all'arma dei carabinieri esatto sì perché veramente anche noi abbiamo ribadito i complimenti all'arma che veramente ha trovato questo delinquente perché lo possiamo delinquente violento che era fuggito quindi per fortuna tutto è andato bene e allora Riccardo invece parla degli eventi la ricchezza degli eventi creati nella provincia portano gente anche in città secondo voi è un problema infatti insomma l'importante è che nel territorio si facciano si facciano eventi no Riccardo poi se partono da Pesaro se partono da da Monbaroccio o da Candelara insomma l'importante è che nel nostro territorio essendo poi così piccolo in pochi giorni veramente un turista può visitare un po' tutta la provincia le attrazioni più grandi della provincia quindi insomma è giusta anche la tua osservazione a proposito di provincia andiamo a Piobbico perché è stato presentato un calendario dettato dalla natura con delle immagini bellissime che è di Massimo Martinelli lo vedete qui orgoglioso con il suo calendario è un fotografo d'eccezione che è immortale allo spettacolo dei paesaggi e degli animali del Nerone esce con questo nuovo lavoro si chiama il Calende Tumas 2024 ed è formato da 13 scatti di grande emozione complimenti quindi a Massimo Martinelli se ce lo vuole portare il calendario lo mostriamo a tutti intanto andiamo a vedere in primo piano le notizie della regione Marche perché insomma non sono notizie entusiasmanti perché nella regione Marche c'è posto per 140.000 persone ma metà dei profili sono rari nelle Marche programmate nel 2023 quasi 7.000 assunzioni in più dell'anno scorso quindi vedete che insomma il lavoro c'è nella nostra regione ma ci sono alcune figure che sono davvero introvabili e allora cala la richiesta di esperienza delle figure in ingresso mentre si amplia anche la quota delle entrate di personale in sostituzione dei dipendenti in uscita e il settore dei servizi a trainare la crescita del 2023 nelle Marche grazie alle oltre 84.000 entrate previste non sempre il titolo di studio è una carta decisiva per l'ingresso nel mondo del lavoro solo per il 10% circa delle 140.000 entrate previste nelle Marche le imprese ritengono necessario un livello di istruzione terziaria laurea o diploma ETS Academy allora qui parla anche la stilista Marchesi dice serve un patto con le scuole il personale formato la moda è a rischio perché se non ci sono più sarte modelliste persone che comunque conoscono certi 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 lavori quale sarà il futuro degli artigiani e di chi produce il nostro made in Italy preziosissimo e il made in Italy che ci fa conoscere in tutto il mondo che fa conoscere anche la regione Marche in tutto il mondo penso solo al settore delle calzature dove noi siamo leader indiscussi ed ora torniamo nelle pagine di Pesaro anche qui insomma quanto stabilito su questo patto in due quartieri per le scuole sicure la sperimentazione è da allargare poi anche in altri contesti intanto vedete che questo patto educativo di comunità prevede i primi quartieri a partire sono Villa San Martino e Tombaccia la convenzione dura cinque anni in prospettiva previste anche settimane di sperimentazione si mettono in sicurezza le strade dei percorsi scolastici delle scuole Don Bosco Don Milani e Manzoni il precedente già sperimentato è il progetto a scuola ci vado a piedi allargato la maggior parte delle primarie ma attenzione perché ci sono dei residenti dei cittadini che segnalano anche insomma altre scuole che devono essere messe in sicurezza come quella che si trova la scuola di via Fermi che si trova all'incrocio di via Kennedy i genitori chiedono dei correttivi in questo caso a parlare Matteo Giorgini residente papà di una bambina che frequenta la primaria del plesso Leopardi di via Fermi e che chiede all'assessore Belloni di intervenire con correttivi e miglioramenti proprio in questa via Kennedy non basta un solo agente della polizia locale proprio in quell'incrocio che poi è molto grande per non parlare di un nutrito gruppo di genitori che entrano con la propria auto praticamente dentro la scuola quando invece quel camminamento dovrebbe restare libero la soluzione qual è dice Giorgini ce ne sarebbero diverse come prevedere attraversamenti pedonali integrativi rialzati per allentare il traffico di chi proviene dall'alto di via Kennedy e poi anche qui vediamo la notizia i droni starano le vaso nel casolare ma come avete fatto a scovarmi questa è la prima domanda che ha fatto in carcere ora a Perugia le sue due vittime dicono abbiamo pianto quando abbiamo saputo della notizia ecco una dice ho pianto nervosamente perché mi sono sentita sollevata mi sono tolta un peso dallo stomaco per paura di rivedermelo davanti casa e poi vedi c'era anche una sera di marijuana un'altra accusa per Marcelli questo blitz dei carabinieri il 49enne risponderà anche dispaccio l'aveva allestita durante la latitanza insieme a un brasiliano adesso indagato insomma vedete continuava a delinquere continuava a crearsi attività malavitose e allora si torna a parlare anche di questo supermercato e che diciamo nasce un po' da ormai da tempo da quando è stato annunciato tra le polemiche dei cittadini tra le polemiche anche di alcune associazioni di categoria un nuovo supermercato a Pesaro è necessario un nuovo supermercato in una città dove ce ne sono già tanti in un quartiere quello della Celletta che già ne ha diversi ebbene domani comunque inaugurerà effettivamente insomma veramente si supermercati ci saranno anche le nostre telecamere e c'erano state un po' di polemiche per quanto riguarda la viabilità che si sarebbe potuta diciamo rendere un po' problematica e adesso però qui risponde ecco l'assessore Belloni che replica ai timori del consigliere Malandrini la careggiata non si stringe un effetto ottico in realtà non è stato ridotto lo spazio è solo un effetto ottico poi ancora insomma deve aprire vedremo come andrà la viabilità e come quella zona insomma sarà gestita a livello di traffico e poi Cavalcaferrovia avete visto sui social il sindaco Ricci ha fatto un po' un sopralluogo ha fatto anche un video per vedere quelli che saranno poi i lavori del Cavalcaferrovia questa zona che deve essere ripristinata che deve essere che sta iniziando un progetto di ristrutturazione in modo particolare anche del parcheggio che ecco qui vedete proprio l'uscita da questo parcheggio un parcheggio che al momento è sterrato eccetera però è illuminato ed è molto utile per coloro che sono pendolari e tutti i giorni prendono il treno quindi proseguono a ritmo sostenuto questi lavori di manutenzione e di restauro del sottopasso e anche dell'illuminazione il piano finale prevede la demolizione di una parte delle attuali rampe con la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minori dal 15% si passerà all'8% il museo archeologico una giornata speciale per il primo anno di questo museo tutto restaurato nel museo Oliveriano i festeggiamenti inizieranno oggi alle 17 nella sala dello Zotiaco dopo un breve momento dedicato ai saluti istituzionali verrà inaugurata la mostra il museo archeologico per immagini si arriverà fino alle 21 gran finale con i saluti speciali da parte dei fondatori Annibale degli Abbati Olivieri e la sua consorte Teresa Belluzzi e poi andiamo a vedere anche a Fanno perché la statua di Sant'Arcangelo è stata restaurata dagli studenti una giornata memorabile alla Padalino nell'anniversario della nascita del medico Giovanni Padalino conosciuto come il medico dei poveri perché pur rendendosi sempre disponibile recandosi personalmente in casa delle persone che erano ammalate spesso non si faceva pagare qui vedete una statua a lui dedicata e poi buone notizie per quanto riguarda la nautica altro settore d'eccellenza della nostra regione in modo particolare anche del territorio del Fanese chiusura d'anno con il botto Nerea Iot vende due Nerea Iot 40 il gioiello del cantiere fanese Messina dice qui la filiera nautica è di alta qualità e poi a Marotta viabilità rischio vicino alle scuole vedete anche qui si inizia a così ponderare quale potrebbero essere le soluzioni per quando i ragazzi escono dalle scuole e soprattutto in vista di un possibile traffico sulle strade il consigliere Mancini evidenzia la situazione nei pressi della FA di Bruno per parlare appunto della sicurezza ed ora andiamo a vedere lo sport partiamo dalla Vispesaro carissimi amici grazie che mi state mandando i saluti buongiorno buongiorno a tutti voi chiaramente che ci state seguendo e allora la Vis cooperativa del gol in nove già andati a segno preziosa la rete dell'islandese Carlson nel match di Perugia Silla guida la classifica dei bomber con cinque realizzazioni e poi il Fano un difensore e una punta sarebbero davvero indispensabili dopo il tesseramento a Colibali la rosa va ancora rafforzata per puntare insomma alla salvezza la WL si scalda Cinciarini pesarese che torna nella sua Pesaro il nuovo acquisto della Carpegna Prosciutto è pronto per l'esordio in trasferta sul parquet di Pistoia proprio questo fine settimana la formazione toscana di coach Brienza ai principali terminali offensivi nella coppia Moore e Peyton quindi vedete qui Andrea Cinciarini che è pronto per l'esordio con la con la WL ed ora vediamo anche le altre notizie sempre di sport vis scontro diretto con il Sestri all'orizzonte qui questa è la prossima partita appunto che ci sarà dal Curi riscontri positivi informazione Biancorossi hanno segnato otto reti nelle ultime sette partite poche in confronto alle altre realtà molte in confronto alle due delle prime cinque giornate e poi Alma Tenko Rang verso i saluti lo cercano ovunque anche in Serie C ma la società Granata tenta di non farlo partire verso il grande supporto visto il grande supporto che ha dato fino a questo momento all'intera squadra e poi WL adesso bisogna proteggere il computer Cinciarini entra nel sistema il pivot è nel mirino il play può trovare il modo di inescarlo senza che faccia sempre a sportellate con la fisicità dei pivot USA e allora a proposito di questo articolo di Elisabetta Ferri vi ricordiamo che domani sera alle ore 21.20 con il consueto appuntamento in diretta lo dico sempre in diretta perché potete partecipare potete scrivere potete vincere i biglietti per le partite domani sera ospiti della puntata di insieme a canestro avremo Roberto Venerandi che è preparatore atletico della Carpegna Prosciutto e quindi ci darà anche tante informazioni riguardo anche la preparazione dei ragazzi degli atleti e Raffaele Vitali giornalista quindi segnatevi il nostro numero di Whatsapp per partecipare al nostro programma oppure seguiteci anche in diretta sulla pagina Facebook e poi andiamo ancora avanti regia con tutto il resto della programmazione perché oggi potete ritrovare la replica ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amministrando verso le elezioni se vi siete persi questo dibattito tra Luca Pandolfi e Michele Redaelli lo potete vedere oggi alle 13.15 giovedì alle 22.30 venerdì alle 11.30 domenica alle 20.30 e lunedì della prossima settimana alle 13.30 e poi questa sera torna una nuova puntata di gli occhi della tigre questa sera conosceremo Maya Alexic che è la centrale del Megabox Vallefoglia questo format che ci sta raccontando la storia la vita il passato i gusti e soprattutto la motivazione di queste bellissime bravissime pallavoliste della Megabox Vallefoglia quindi domani scusate oggi questa sera alle 21.20 e poi questa sera subito dopo la Megabox vediamo l'inaugurazione del nuovo punto vendita Chiabì questo franchising francese che apre il suo ennesimo negozio in Italia è arrivato anche a Pesaro siamo dentro lì per Rossini di Pesaro e vi mostriamo insomma questa nuova attività che cos'è come verrà gestita eccetera e allora detto davvero tutto io chiaramente vi aspetto nel telegiornale tutte le sere da lunedì al venerdì 19.30 replica le 20.30 e invece ci ritroviamo noi dell'appuntamento della rassegna stampa domani alle 7.20 grazie a tutti a voi che siete a casa a voi che siete sui social vi auguro davvero una buona giornata